Le campionesse e i campioni dell'Under 13 Class 4 edizione anno 2019, le campionesse vengono dalla regione Liguria, sono Locatelli C. La regione Liguria, sono Locatelli, sono Locatelli, sono Locatelli, sono Locatelli! La regione Liguria, sono Locatelli, sono Locatelli! La regione Liguria, sono Locatelli, Consiglia ha la coppia ai campioni Under 13, Colonel Marschini! e ora vi presento il Nail Ham 13, champion 2019 dalla città che da mercoledì ospiterà l'Università di 2019.